Lui è il Witherstorm, uno dei boss più potenti e terrificanti di Minecraft E oggi voglio provare a sconfiggerlo Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendal e benvenuti in una nuova avventura totalmente fuori di testa col vostro imperatore Come vedete siamo spawnati in un mondo con una casetta preimpostata che ci servirà tra virgolette per proteggerci dal Witherstorm Che adesso dobbiamo andare a spawnare, quindi ci dovrebbero essere delle scale che mi portano al secondo piano Dove è tutto quanto già pronto per il delirio Quindi prendiamo le teste perché adesso le dobbiamo piazzare su quel common block per spawnare una delle creature più terrificanti di Minecraft E iniziamo così, uno, due, questi me li prendo e tre Via, 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 devo scappare, devo scappare, devo scappare Io non ho mai affrontato il Witherstorm È la mia primissima volta Quindi sono molto curioso di sapere come andrà Ma guardate come gli animali scappano Ok, ho un po' di tempo per prendere della legna Mi devo muovere Come vedete la sua vita si sta ricaricando E questa è soltanto la fase numero 1 Infatti se non sbaglio c'ha ben 8 evoluzioni Prima di diventare gigante come avete visto nella intro Allora, mi faccio subito degli attrezzi Devo prendere assolutamente la cesta da questo portale abbandonato Potrebbe esserci qualcosa di utile Ok, prendiamo questa roba e via, scappa Come vedete ragazzi sta assorbendo energia, blocchi e materiali Per diventare sempre più forte E io nel frattempo ne approfitterei per andare giù in caverna Per equipaggiarmi Per batterlo avremo bisogno almeno di un set in diamante E di molta astuzia e strategia Questa boss fight ragazzi potrebbe durare addirittura un'ora Quindi mi raccomando lasciate un mi piace se vi piacciono questi tipi di video Allora, a legna siamo messi abbastanza bene Io proverei a prendere anche un po' di carne prima di buttarmi giù in miniera Dai, dammi della carne A posto Che bioma orribile No, paura Sta diventando sempre più forte, sempre più grande Guardate, riesco a vederlo anche se mi sono allontanato Allora, velocissimo Mi faccio subito una spada Così prendiamo un pochettino di cibo E dopodiché giù in miniera tutta la sera Mamma mia ragazzi, mi sudano le mani Andremo a combattere uno dei boss più forti di Minecraft Morì Piccone subito Avremo bisogno di molte frecce Quindi devo iniziare a prendere già adesso tutti i polli e le loro piume Oh no È già alla fase 2 Hai raggi che gli escono dagli occhi Aiuto Quei raggi ragazzi possono teletrasportarti davanti alla sua faccia e ti mangia poi Non è per niente piacevole Direi che è arrivato il momento di scendere in caverna Allora, giù in caverna non dovrei avere problemi Quindi ne approfitterei al volo per farmi una fornace Mettiamo subito a cucinare del cibo Un bel piccone C'è del ferro? Devo poter essere almeno full diamante per sconfiggerlo E quindi mi servono una trentina di diamanti al volo Mangia, mangia, mangia In miniera non dovrebbe riuscire a raggiungermi Quindi fin quando sto qua giù sono abbastanza sicuro Nel frattempo approfittiamone per riempirci le tasche di ferro Dai, sta andando tutto secondo i piani Ma con chi crede di avere a che fare subito creeper Devo battere il Witherstorm Figurati se ho paura di te Ok, allora Ascia subito al volo Prima però mi devo fare degli stick Quindi stick Ascia E buttiamo la spazzatura Pantaloni Devo farmi subito un piccone in ferro Perché ho l'impressione che qua sotto sarà pieno di diamanti Quindi non perdiamo altro tempo Ok Elmetto ovviamente Corpetto Voilà E ovviamente non mi devo dimenticare anche dello scudo Che sarà fondamentale per tankare i colpi del Witherstorm Ok, credo sia arrivato il momento di scendere giù Scendi piano piano con calma Oh, diamanti! Li ho già visti Facciamo un po' di piazza pulita Voi non siete nessuno Confronto al Witherstorm Ok, piazziamo le torce Altri diamanti? Fa il bravo Ok, uh Ma sono vista brutta Allora, siamo a due Tre Altri? No Allora prendiamo questo Quattro Cinque Dai, 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 dai Niente Cerchiamo di andare avanti Ignorando i mostri Diamanti lassù E diamanti anche qui Li prendo volentieri Uno Va bene Che belle le nuove caverne di Minecraft Sempre piene di diamanti Prendiamo anche questo E lì c'è un mob spawner Approfittiamone E altri diamanti Vai Uh, quanti? Ci sono creeper? No Ok, tutti i miei Mi devo fare full diamante per forza ragazzi Un altro ancora? Ok, come inizio non c'è male Sta andando tutto secondo i piani Me l'adoro Me l'adoro Ma che è la mia giornata fortunata oggi? Togliamo questo Tanto non devo farmare livelli Allora, approfittiamone Chestplate subito E ovviamente anche piedini La spada non mi servirà a nulla Quindi possiamo tenerci anche l'ascia in ferro La cosa principale che dovremo fare Sarà una balestra Io scenderei di qua Quasi quasi Ai 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 Malattia del Warden Bisogna stare attenti Ora come ora Il Warden potrebbe essere più pericoloso Addirittura del Witherstorm Che colpo di fortuna ragazzi Ho assolutamente bisogno delle ametiste Bene Mi svuoto l'inventario dalla spazzatura Vieni qua da me Uno solo? Uno solo Prendiamo anche l'oro E sarei curioso di risalire in superficie Oh mio Dio No Via 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 No 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 Non abbiamo bisogno anche del Warden Grazie Di questi però si Sempre uno Allora mi faccio subito i gambali Oioioi Oioi Cos'è sto suono? E lui? Non mi piace per niente Fammi risalire Mi serve anche questo E tra non molto capirete perché E mi serve tantissimo oro Dovremmo andare nel neder alla ricerca dei bastioni Ehi 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 Che sta succedendo? Trema tutto Oh mio Dio ragazzi Ehi Wow Un terremoto Un terremoto Un terremoto No no Io sono al sicuro qua sotto Vero? Santo cielo Eccolo Ho bisogno di questo cannocchiale Mi serve redstone Gripeater Pulsante Colorante nero E spyglass Ed ecco perché ho preso ametiste questo Ok Io adesso mi farei anche un bel piccolo indiamante Che può tornarci utile Non so se è una buona idea mettere la testa fuori Però voglio dare un'occhiata È già gigante Devo andarmene da qua Devo andarmene immediatamente Devo prendere l'ossidiana che c'era da quell'altra parte Mi ha visto? Sembrerebbe di no Sembrerebbe che non mi abbia visto ancora Guardate che devasto che sta facendo Ah ma tranquillo eh Ti sconfiggo Eh sì che ti sconfiggo Allora sono tornato qui alla base Semplicemente per prendere l'ossidiana del portale Avrò bisogno di entrare nel neder Guarda quanta ce n'è Qua ho preso tutto Sì ho un'idea Sta venendo verso di me Oh no Muoviti Non lo so ragazzi Non so se sta venendo verso di me Mi serve un secchio d'acqua Mi serve un secchio d'acqua Oh porca miseria No ragazzi è sempre più vicino Mi insegue No 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 Non mi devo fare prendere dalla luce Non mi devo fare prendere dalla luce Corri 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 Semmi No no Ragazzi abbiamo un problema Non ho ender pearl Ah Oh mio dio quanto è terrificante Scudo la mano Provo ad attaccarlo Ma dopodiché dovrò fare per forza un clutch con l'acqua Sì ciao Qua ci muoio Qua ci muoio Qua ci muoio Tecnicamente gli posso fare del danno Se lo colpisco nell'occhio Ok preso Muori maledetto Sì Oh Gli ho rotto l'occhio Vai Non ci credo Ok prima morte Prima morte Non è un problema C'ho la keep inventory ovviamente Come avete visto tutti Allora io ho assolutamente bisogno di prendere Questa ossidiana Quindi se sto sotto terra Non dovrebbe essere un problema Devo andare nel nether Mannaggia 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 Però una testa gliel'ho rotta ragazzi Un po' di male gliel'ho fatto Anche se ancora non è alla sua forma finale Che paura che fa Ho scoperto una cosa OP Se stai sulla barca Non ti può risucchiare Quindi io adesso ne approfitto Per andare lontanissimo Ok Ok Scherzavo Evidentemente scherzavo Evidentemente scherzavo Ma dai Pensavo Ma sta prendendo Delle intere zolle di terreno Maledetto Se soltanto avessi più frecce No raga è la fine È la fine Mi ammazza di nuovo Aia ma attacca pure Con gli effetti del wither Maledetto Prendi questo E questo E questo E lasciami stare Ok Giù con l'acqua Niente Via Me la devo dare a gambe Mi sono fatto la balestra E ho preso tutta l'ossidiana Che mi serviva Io continuo a prendere i diamanti Allora Questo lo trasformiamo in inchiostro nero E adesso dovrei riuscire Esatto A craftare Il fasometer Puntando questo cannocchiale Al witherstorm Mi dirà In che fase evolutiva è E io credo Che sia quasi Al massimo della sua forza Adesso È arrivato il momento Di entrare nel nether Eh ci sono un casino di diamanti Li vorrei prendere tutti Senti un po' Anche se non cambia nulla Via È arrivato il momento Prima però Mettiamo a cucinare un po' Oh Oh mio dio Ok Metto a cucinare un po' di gold Così mi posso fare dei piedini Guardate come fa a tremare tutto Iniziamo a fare il nostro portale Va 1 e 2 Dai da bravo Smettila Faccio i piedini E con questa carica di fuoco Accendiamo il portale E adesso ragazzi Dobbiamo prendere tantissime frecce E quindi l'obiettivo Sarà quello di luttare Tanti bastioni E commerciare con i pillager Non c'è nessuno qua Sharpness 2 Tutta utilizzata Non mi serve a niente Smitting template Chi lo sa Magari mi servirà Frecce sì So speed Ok aspetta Devo prendere l'oro Di questo bastione Senza però farmi massacrare Dei bruti Qua si scende Altra cesta Ecco il brutto Diamo gli fastidio Vieni qua Vai beccati la lava in testa Stupido Da tutte le parti proprio Ok Addio Posso scendere senza morire? Fatevi una bella doccia di lava Ok Lei in fondo dovrebbe esserci l'oro Che poi mi servirà Per commerciare con i piglin O la va O la spacca Ok Nessuno mi odia Sì bravo scemotto Dammi la tua carne Dammi la tua carne Grazie Adesso chiudiamoci qua dentro Ottimo Sta andando tutto Secondo i piani Allora Trasformiamo questo tutto in lingotti E iniziamo a commerciare Ehi Lo vuoi questo? Sì che lo vuoi Vai Prendili tutti Ragazzi Anche tu Vieni Guardate un po' Qua ce ne sono anche altri Vieni 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 Bravo Non fare il timido Entrate nella mia trappola Allora Adesso mi svuoto l'inventario Perché Queste robe non mi servono I piani di diamante sì Posso fare veramente Tantissime frecce Non male Ci serviranno tanto E ho trovato anche Della nederite Ma ovviamente Non sarà mai abbastanza Per fare un lingotto intero Ottimo Vedo già delle enderpearl Continuate Continuate Bravo Vai anche tu Unisciti con i tuoi amici Guarda quanta roba Mi stanno dando Sirena piangente Non mi serve Via via Sì Bravissimi Continuate così Pozione di resistenza Mi serve Basta io mi butto Direi che così può andare bene 50 frecce Ok Ok Direi a posto così Adesso vi faccio vedere Un piccolo trucchetto Ho ricaricato la balestra Con l'enderpearl Così guardate La lancio lì E stavo per morire Ok perfetto Pozione di resistenza al fuoco E prendiamoci un po' di rod Scheletrino Tu non hai idea Di che cosa sto facendo io Non mi puoi spaventare Sono messo male a cibo Mi devo dare una mossa Devo essere più veloce di così Muori Muori Ok sono già sufficienti Io direi adesso Portale del neder al volo E ce ne andiamo da qua Accendilo E addio Adesso ragazzi Abbiamo un vero problema Non posso più tergiversare E' arrivato il momento Di affrontare il boss Mamma mia ragazzi Quanto è inquietante Non dimentichiamoci Di cambiare i piedini Adesso mi ricrafto questo Ok Ed è arrivato il momento Di utilizzarlo E' nella fase 4 E come vedete Come target A colui che osserva La sua prossima fase A quanto pare E' al 23% Della fase 4 Oh mio dio Allora Ricarichiamo la balestra Con l'ender pearl E adesso ragazzi E' arrivato il momento Di avvicinarsi No 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 Non mi avrai Via Scappiamo con l'ender pearl Non ancora mio caro Non ancora Ho bisogno di più cibo Ho bisogno di più cibo Allora L'unico modo Per sconfiggerlo E' craftando Una bomba nucleare Purtroppo però Per craftare Questa bomba nucleare Dovremmo prima uccidere Una parte Del wither boss Tra non molto Infatti dovrebbe Spawnare Degli uomini Simbionti E uccidendo Quei suoi scagnozzi Fortissimi Otterremo un oggetto Che ci permetterà Di craftare Una bomba nucleare Dopodichè Dobbiamo soltanto Assicurarci Di metterla abbastanza Vicino al wither boss Così esploderà Ragazzi E' arrivato Alla fase 5 Oh mio dio E' terrificante Però non mi ha ancora Individuato Allora TNT Craftata Adesso dobbiamo Veramente farci Risucchiare da lui Ha distrutto tutto Ha distrutto tutto Ender pearl alla mano E' arrivato il momento Di farlo arrabbiare Aiuto Che paura che mi fa Proviamo ad utilizzare Arche frecce Oh l'ho preso Vai Ah ti do fastidio eh Uiu Ok mi sono salvato Qualcosa mi dice Che l'ho fatto arrabbiare Un bel po' Ragazzi Mentre stavo preparando Delle altre TNT E' finalmente spuntato Il simbionte No 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 Maledetto Mettimi giù Ho detto mettimi giù Preso Preso E muori Lasciami stare Via Esatto Scappiamo Ok ecco il simbionte Oddio Ma che fa E' bruttissimo Me l'adoro E proviamo ad attaccarlo Oh oh Non gli faccio niente Ok proviamo con la balestra Perfetto Le frecce gli rimbalzano contro Eeeh come dovrei Come dovrei fare Qualcuno me lo spieghi Devo ucciderlo per forza Sì vabbè mi lancia pure le cose Mi lancia pure le cose Degli shulker Che mi fanno volare Devo ucciderlo per forza ragazzi Se no non posso craftare La bomba nucleare Fermi Oh porca miseria Sta spawnando i mostri Oh no Non ci voleva Non ci voleva Maledizione 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 Dov'è il mio secchio di lava Non ce l'ho più E' tutto ok E' tutto ok Devo uccidere il simbionte Oh Forse lo devo attaccare alla schiena Oddio si Ok ho capito Devo evitare tutti i suoi colpi Che fa Salta Salta Ok Dicevo devo evitare tutti quanti i suoi colpi Fin quando non si gira di schiena Dov'è Ah Scappa 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 Mi sta inseguendo Non farti prendere dalla luce Non farti prendere dalla luce Ok gli scagnozzi li uccido subito Se non altro Mi sembrano piuttosto debolucci Sì ciao Che è sto delirio Guarda come questo Guarda guarda Continua a spawnare i mostri Ok lo posso attaccare Prendi questo E' a metà vita E' a metà vita Cosa è successa alla mia faccia Una volta ucciso il simbionte Potremo craftare la bomba nucleare E tecnicamente in questo modo Potremo uccidere il Witherstorm No Aia Non mi fate mangiare la mela d'oro Che ne ho poche Scappa 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 L'armatura come sta messa Si sta rompendo l'elmetto Conviene che me ne crafto uno nuovo Ovviamente in ferro ragazzi Ok il simbionte mi sembra bloccato No Non è bloccato per nulla Mi sta attaccando Mi lancia i colpi Ehi Fermi voi maledetti Si è bloccato? No Arrenditi maledetto Cioè ragazzi sto combattendo contro Venom Aiuto 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 Sono messo malissimo Ok la devo mangiare La devo mangiare Ok Tutto ok Tutto ok Dai fammi vedere il tuo punto debole Apriti la schiena Sento pulsare Sì infatti Boom Dritto al cuore No raga si mette male Si mette malissimo Non ho mai fatto un combattimento così stressante Mangia e rigenera Sì 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 Continua pure ad attaccarmi Tanto ormai conosco il tuo punto debole Solo che se continuo a prendere danno Poi consumo tutto il cibo Ok mettiamo queste Dov'è il simbionte? Dov'è il simbionte? Dov'è il simbionte? Eccolo è sempre lì Posso avvicinarmi? No Mangia la mela d'oro Oh mi sta risucchiando se stesso Scudo 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 Enderpearl Dai enderpearl muoviti Ok L'enderpearl non si muove Tiriamone un'altra Ok Uh Mi è teletrasportato in tempo Rigenera Aia Aia Fermi Scudo 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 Stanno rompendo Oddio c'ho un cuore Me l'adoro me l'adoro Ok Rigenera Eccolo Lo posso attaccare Prendi questo Manca pochissimo ragazzi Manca pochissimo L'ultimo colpo Mi devo craftare un altro scudo Mi devo craftare un altro scudo al volo Muoviti a morire Maledetto Ok così se non altro non consumo cibo Di scudi ne posso fare quanti ne voglio Se ciao Ma dai ma scusa ma Ma sei un po' troppo P Non è neanche il boss lui È uno scagnozzo del boss Ai Nel frattempo quello sta risucchiando Tutto il mondo Lo posso finalmente attaccare Boom No vabbè c'è ancora vita Muori maledetto Ora mi rompono di nuovo lo scudo Ma tanto ne posso fare un altro Mi ho saltato l'avanti Ehi Fermo No Non è carino Non te l'ha insegnato la mamma Ok abbiamo un altro scudo Via questo rotto È fermo Sì Sì Sono No Fermo Sono pronto a uccidolo Vai via Muori Scudo 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 Questo esplode ora Scudo Dai muoviti a morire Ok è morto Deve avermi droppato Esatto Ecco il drop Ma ve ne volete andare per favore Allora devo prendere il drop Preso Ora posso scappare E adesso vi spiego cosa dobbiamo fare Sì vabbè ma sono un porco spino Mi hanno massacrato Ok ragazzi Ok 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 Calmi tutti Bene Siamo giunti alla fine di questo combattimento Mi nascondo qua così non mi vede Allora Io adesso devo creare la super TNT Che si fa in questo modo E con la super TNT Blaze powder E gunpowder Posso fare La formi di bomb Una bomba nucleare Che ucciderà una volta per tutte Il Witherstorm Cosa Devo aspettare 583 secondi Oh maledizione Ok 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 Aspettiamo allora Nel frattempo Eh dai Diciamo nel frattempo Mi ripulisco l'inventario Siamo qua In una bella zona sicura Non posso fare altre mele d'oro La nederita a questo punto Non mi serve più a nulla Mi farei giusto Un altro paio di scudi Ho l'impressione che mi serviranno Ok Cioè scappano pure i mostri Ragazzi Ma mi è infettato Guardate Sono tutto quanto malato Ho i cuori grigi Quanto cielo Quanto fa paura ragazzi Però qua sotto gli alberi Non mi vede 500 secondi alla detonazione Adesso devo fare una pazzia Mi devo mettere proprio sotto di lui E lui dovrà risucchiare questa bomba È l'unico modo Allora Ricarichiamo la balestra Con l'ender pearl Ehi piccolino Adesso mi devo fare inseguire Ok Devo andare verso la luce Oh 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 Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto E tra non molto mi prende Però non è arrabbiato con me Credo stia solo pensando A diventare più grande E più forte 400 secondi alla bomba Per precauzione Mi faccio un altro Il metto in ferro Ok Appena mancheranno Gli ultimi 40 50 secondi Gliela faremo mangiare Oi Ho preso danno Da cosa? Allora Devo iniziare a piazzare la bomba Vicino ai suoi fasci di luce Però adesso sono puntati verso l'acqua Ho bisogno che vadano sul terreno Dai 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 Sai che c'è O la va O la spacca Ma co No Si è piazzata la sola Ok Devo scappare Devo scappare E' proprio lì Oddio cosa sta succedendo al mio mondo Mi sa che sono le radiazioni della bomba Tra non molto morirai No 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 Non devi risucchiere me Non devi risucchiere me Via scappiamo No raga butta male L'ha presa Ragazzi l'ha presa Ha preso ufficialmente la bomba Tra non molto morirai Stupido E io me ne vado E no e no e no e no Via Mi devo allontanare ragazzi La bomba sta per esplodere Dov'è? E' lì? Oh mio dio E' esplosa Oh porca miseria Non vedo più nulla E' tutto bianco Ha ufficialmente mangiato la bomba nucleare Ed è morto Wow Che meraviglia L'abbiamo ucciso Ho ufficialmente ucciso il Witherstorm Visto così non fai più tanta paura eh Ed ecco a voi la sua carcassa Terrificante Ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato mi raccomando Lasciate un mi piace Uh Non è stato per nulla facile Dal vostro imperatore è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Oh Perché? Ehi No No E' ancora vivo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio No 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 Sei risvegliato Ma che stai scherzando? Non è possibile Non è possibile Ragazzi Lasciate un mi piace E noi ci vedremo nella parte 2 Ciao Ciao